Siamo qui al bar Aldos sabato sera di febbraio perché stiamo aspettando l'arrivo di Pavel Nedved che è un frequentatore dell'Aldos bar dell'Archigay ed è qui per incontrare la sua nuova amorosa che lo sta aspettando lentamente e cosa ne pensa di Pavel Nedved? no no cioè io sono un fan accanito di Pavel sono un fan accanito di Pavel e spero di incontrarlo stratanto stasera cioè perché sarebbe un'emozione troppo forte allora aspettiamo Pavel che arriva Pavel Nedved sta arrivando Oh Pavel Pavel c'è tu? No ma davvero c'è tu sei il mio? Cioè tu sei il mio? Io vorrei inserire come te te lo vedi Lo so però No ma No grazie scusa io sono qua per un altro motivo Si ma tu sei il mio? Ti ringrazio guarda molto però no grazie No ma davvero mi potresti fare un autografo? Si l'autografo dopo dopo dai No adesso vai fuori dal cazzo nella colina poi io Ci costa eh ci costa No guarda scusa io sono qui per trovare lei guarda che è anche un po' imbarazzata E poi non ci puoi pronunciare? Perché è nuda? E' nuda perché è un po' puttana Allora allora ti lasciamo con la tua moglie Prego però vai vai Che cosa dobbiamo fare? Non rompete i coglioni Spendendo la telecamera Non rompete i coglioni Non rompete i coglioni